Immagini di un weekend affollato nelle città italiane, ma durante la quotidianità della settimana le strade delle nostre vie non sono poi così vivaci come nel fine settimana. Conf Commercio annuncia già un calo quest'anno. La spesa complessiva per i regali di Natale prevede una diminuzione del 18%. Secondo i dati, un quarto della popolazione che quest'anno acquisterà i regali soprattutto per il semplice motivo che a causa dell'emergenza sanitaria sarà praticamente impossibile il classico scambio sotto l'albero con parenti e amici. Poi ovviamente ci sono le ristrettezze economiche che hanno messo i cittadini in difficoltà e secondo chi comunque riceverà la tredicesima questa verrà usata nella maggior parte dei casi per spese dedicate alla casa, al risparmio, alle tasse e alle bollette.